Cambiando il suo punto di vista si rigenera e questo lo trovo molto raro mettere in scena questo tipo di persone raccontate in questo modo. Se c'è l'emozione dentro è come se lui riesca a vedere quella verità, ecco, in questo film c'è tanta verità, bisogna fare così, lavorare con un regista che da 18 anni non fa un film, è una storia che è maturata dentro di lui per tanto tempo.